Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di RockPolitik. In questa puntata vorrei parlare di un grande appuntamento, quello che accadrà il 24-25 settembre all'Italian Tech Week a Torino. Ecco, avremo un ospite d'eccezione al nostro capologo di provincia e questo ospite si chiama Elon Musk. Elon Musk, per chi non lo conoscesse, non è solo uno degli uomini più ricchi del mondo, ma uno dei più grandi visionari dei nostri tempi, con i suoi difetti e con i suoi pregi. SpaceX, Neuralink, Tesla, Paypal, queste sono solo quattro delle aziende che lui ha fondato e che hanno cambiato i nostri tempi. Ma perché è importante questo evento, questo incontro? E' importante perché Elon Musk a Torino incontra John Elkan, il presidente di Stellantis, per parlare di autovolanti, per parlare di navi spaziali, per parlare di neurotecnologie. Ecco, cambiare il mondo, una nuova visione totale del mondo e questo è molto importante perché l'Italia è di nuovo al centro del mondo. Da quando c'è Draghi l'Italia si sta sedendo sui tavoli più importanti e soprattutto è al centro di questa nuova innovazione tecnologica. Questo abbiamo notato anche a livello locale perché ricordiamoci che comunque Stellantis sarà sempre legata alla città di Torino, quindi al nostro territorio. E subito vediamo le conseguenze. A Scarmagno, negli stabilimenti di Olivetti, nasce Italvolt, la Gigafactory, che praticamente crea nuovi posti di lavoro, un'industria 4.0, 4.000 nuovi posti di lavoro che vengono creati dal nulla. Un'industria che lavora sul futuro, sull'elettrico e non più le vecchie fabbriche che inquinano e che producono sempre automotive, automotive, automotive. Stiamo cambiando, c'è una nuova visione soprattutto sul nostro territorio. Hanno spaventato alcune dichiarazioni nelle ultime settimane in cui si pensava a uno stop della Gigafactory, invece no. Nel 2022 partiranno i lavori e questo è molto importante. C'è una nuova visione del nostro territorio, del canavese e dobbiamo riuscire a stare al passo. Questo anche perché la politica ha fatto molto poco in questi ultimi anni. A livello ambientale si è fatto pochissimo, non si è riusciti neanche ad educare i cittadini, i cittadini più giovani, a avere una visione ambientalista del nostro territorio. E quindi cosa bisogna fare? Di idee ce ne sono tantissime, soprattutto nelle nuove generazioni, su come cercare di abbellire i nostri territori, cercare di avere un impatto verde sulle nostre città, cercare di avere un sviluppo sostenibile sia per le piccole, per le medie, per le grosse aziende. Ecco, bisogna cercare di avere un laboratorio di idee e cercare di mettere in pratica questa idea il prima possibile, per cercare di stare al passo con il cambiamento che sta avvenendo in tutta Europa e in tutto il mondo. E su questo bisogna batterci il prima possibile a partire dai nostri piccoli comuni, dai nostri piccoli territori, per non cercare di avere una decentralizzazione totale anche dei nostri piccoli comuni in cui siamo cresciuti, viviamo e che probabilmente tenderanno a, tra virgolette, morire per appunto avere una decentralizzazione, un'urbanizzazione ancora più forte delle grandi città. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata di RockPolitik. Grazie per la visione!